Ciao amici, io sono Gai e voi siete i benvenuti su The Chili Roads Questa settimana è il mio compleanno No, no, non è il compleanno quello vero Quello vero lo faccio a gennaio, più precisamente il 6 se vi interessa Ma è il compleanno del mio canale YouTube Esattamente, sono due anni, due anni che sto su YouTube E quindi è il compleanno di The Chili Roads Durante questo periodo di quarantena tutti i miei tutorial di Premiere Pro Sono schizzati con le visualizzazioni perché giustamente tante persone stanno iniziando A mettere in mano la propria videocamera, al proprio telefono A fare dei video per aprire i loro canali YouTube E proprio durante queste settimane molti mi hanno chiesto su Instagram Se stare su YouTube è complicato Quanto tempo ci vuole, dopo quanto tempo si iniziano a vedere i primi risultati Ehehehe Allora, partendo dal fatto che non posso parlare di grandi risultati Perché il mio canale è piccolino e cresce gradualmente nel tempo Quindi non sono il figlio dell'esplosione, come succede a molti Se dovesse rispondere così su due piedi a quelle domande La prima risposta che mi verrebbe da dare di pancia sarebbe sì Stare su YouTube è estremamente difficile Ma questo non lo dico per scoraggiare Anzi, lo dico per incoraggiarvi Anche se detta così effettivamente suona un po' strana Questi due anni su YouTube sono stati due anni laboriosi Molto laboriosi In un costante stato mentale di attività Attività perché pensi, perché segni, scrivi, poi giri, poi editi, poi pubblichi Ehehehe E mentre stai pubblicando stai già lavorando al video successivo E quindi non ti godrai neanche quell'attimo di Ah ah, ho pubblicato il video A te che stai guardando questo video E che magari stai pensando di aprire un tuo canale YouTube Sappi che non è facile Non è facile, ci vuole tanto tempo da dedicare Allo stesso tempo, dopo due anni su YouTube Un po' come capita quando faccio le recensioni A distanza tipo di mesi o di un anno Di che ne so, di attrezzatura foto-video Voglio fare una recensione della mia esperienza Recensione si fa per dire Però questi due anni hanno avuto davvero tanti Tantissimi aspetti positivi Il primo, che è quello che ho detto due secondi fa Ovvero la costante ricerca La costante attività Il costante cercare di rimanere creativo Con tutti i blocchi del caso Che spesso e volentieri succedono Specialmente se la tua vita non puoi dedicarla interamente a quello E poi le esperienze Perché stare su YouTube ti mette un po' anche nella condizione Ti dà la voglia di voler raccontare l'esperienza più figa possibile Più figa di quella degli altri E quindi ti imponi di fare sempre qualunque cosa che stia facendo Quel passo in più Per portare un qualcosa che possa essere bello Per chi lo guarda Utile, intrattenente Qualunque sia il campo che vi state scegliendo Qualunque sia la strada che vogliate intraprendere su questa piattaforma Dopo due anni ho imparato che preferisco YouTube a qualunque altro social network Infatti da poco il canale YouTube ha superato il profilo Instagram E questa cosa che magari non importa nulla a nessuno A me importa molto perché mi fa pensare, mi fa riflettere Su Instagram vive la mia parte fotografica Vive la mia quotidianità tramite le Instagram stories Però sono dell'idea che chi si trova su Instagram È lì mentre è sul cesso Mentre sta aspettando il tram E quindi cerca un tipo di intrattenimento Instagram ha una fruizione totalmente diversa Fruizione in cui io non mi rispecchio Perché io non sono il tipo che si siede sul cesso E si guarda Instagram Oppure sta aspettando il tram Che non prendo E si guarda Instagram È un social network in cui non mi rivedo Lo utilizzo ma non mi ci rivedo Mi rivedo molto di più in YouTube Perché sono in primis uno spettatore Perché per creare devi anche guardare Quello che fanno gli altri Lasciarti ispirare, reinterpretarlo Quante persone hanno fatto questo tipo di video Su YouTube a posteriori raccontando l'esperienza Miliardi Dovrei non farlo perché l'hanno fatto altri No Lo faccio con il mio carattere La mia esperienza Che non sarà mai la stessa Di quella degli altri E questo è un altro punto di forza Perché potrete copiare l'idea di un video Ma il vostro video non sarà mai lo stesso Di quello degli altri Quindi Anche all'inizio ci sta un po' di copiatura Un po' di copiatura Perché devi trovare Bisogna trovare la propria strada Il proprio indirizzo Il proprio stile anche Due anni Due anni che se ci penso L'anno scorso Ho chiuso il mio primo anno su YouTube Con 317 iscritti 317 iscritti Dopo 365 giorni Meno di un iscritto al giorno Con un video a settimana Anche video belli elaborati Perché facevo i motovlog all'inizio E quindi utilizzavo drone, gopro, camera Di tutto E quindi erano anche belli lunghi e difficili da montare Eppure Non mi sono scoraggiato Ho continuato Per me stesso E per chi aveva scelto di seguirmi Perché se ci pensate Poi 300 persone Non sono così poche Sono 300 persone Sono tipo 5x4 5x8 32 Sono tipo 8 autobus Pieni zeppi di persone Non poco E poi il secondo anno Invece è stato più preciso Ho scelto con chi volevo parlare Ho abbandonato Quel modello di motovlog Mi sono dedicato più al vlog Mi sono dedicato ai tutorial Per quello che riesco a fare Che voglio condividere Mi sono dedicato A tutte quelle persone appassionate Di videomaking A tutte quelle persone appassionate Anche di YouTube Di vlog Nella speranza di poter lasciare loro qualcosa Qualcosa di me A voi che state guardando questo video E quindi Se ci penso a mente fredda Nonostante la difficoltà Nonostante i risultati Non sono mai quelli Che uno si aspetta da un video Sono veramente soddisfatto Di questa avventura Fino a questo momento Perché in questo secondo anno Rispetto al primo Ho quadruplicato Il quadruplicato 3x5 15 Ho quasi quadruplicato Il risultato Quindi un altro anno è passato Con un video a settimana A volte anche di più Un paio di live Un paio di collaborazioni E ho quadruplicato i risultati Siamo da poco arrivati A 1400 persone 1400 persone Sono tantissimi Autobus Pieni di persone Questo Però Vuole essere un video Onesto Spontaneo Dal profondo del cuore Per incoraggiare Chiunque veramente Voglia investire Il proprio tempo In una strada Complicata Ma ricca Di soddisfazioni Sul lungo termine Youtube E costanza E rigore Soprattutto Perché non è facile Nel mio caso Per esempio Scrivere uno script Dopo 10 ore In ufficio Girare il sabato L'unico giorno libero Montare la domenica L'unico giorno libero Quindi in realtà Il giorno libero Ci sono due Avere una relazione Una convivenza E cercare di mixare Tutto questo Per creare un equilibrio Quindi serve il rigore Serve la possibilità La capacità Di scandire i tempi Serve La consapevolezza Che a volte Ti devi fermare Devi rallentare E quindi magari Metti un freno Alle tue pubblicazioni Perché magari Stai sbilanciando altro E la frustrazione Per esempio È stato un altro Dei sentimenti Che ha accompagnato La mia esperienza Sì Tanta frustrazione Tantissima Tantissima Specialmente perché Per chi non lo sapesse Io lavoro Nell'advertising Lavoro in comunicazione Per alcuni brand Molto importanti Mi occupo proprio Di gestire Insieme ad un team Di persone L'aspetto social Per far crescere I loro canali Faccio strategie Su youtube Faccio strategie Su instagram Su facebook Insomma quindi Diciamo che Faccio anche un po' Quel lavoro E lo faccio per gli altri Con risultati Mentre per me stesso Capita Quasi sempre Capitato per tantissimo tempo Di essere tanto frustrato Dall'assenza di risultati Di vedere poche views Pochi like Pochi commenti Perché i commenti Sono la cosa Che spesso e volentieri Mi da tante idee Per tanti nuovi video Gli ultimi per esempio La maggior parte Gli ultimi video Sono tutti nati Da un commento Che mi avevano lasciato Che mi avevate lasciato voi Non è facilissimo Non è facilissimo Però poi a un certo punto Ti fa click la testa Ti fa click il cervello E capisci che non lo stai facendo Per le persone Che ancora non hai conquistato Ma lo stai facendo Innanzitutto per te stesso E successivamente Per le persone Che hai già conquistato Io voglio portare A voi che mi seguite In questo momento Dei contenuti validi Utili Belli E intrattenenti Che magari vi facciano passare Quei 5 minuti Se siete da soli Se siete al cesso Se state aspettando il tram In modo un pelino più costruttivo Rispetto a fare Questo movimento Su Instagram E per questo Anche ho smesso Di pubblicare le fotografie Ragazzi Ve lo dico Off topic Ho smesso di pubblicare Le fotografie Perché magari Per fare uno scatto Uno Mi facevo tipo 200 km C'è un video proprio Dove mi faccio Non 200 Ma tipo Un'ottantina di km Ad andare Una a tornare Per fare una fotografia Una fotografia Bellissima Una stampata Che puoi pensare Che le persone Sanno lì Mentre cagano E fanno swipe Mi turba Perché cosa Per tipo Non lo so 200 like No Non fa per me Non fa per me Preferisco Preferisco avere Poche visualizzazioni Ma sapere che due persone Hanno guardato un video Nella sua interezza L'hanno trovato utile L'hanno trovato di ispirazione Questo comunque È una soddisfazione Più grande Più grande Non so se un giorno The Chili Roads Esploderà Avendo un milione di follower Non mi interessa Mi interessa oggi Sapere se così sarà Mi interessa Essere soddisfatto Di me stesso Quando guardo Quando mi guardo Allo specchio Quando guardo Il mio canale E i contenuti Che sono riuscito A realizzare nel tempo E cercare di farlo Sempre al meglio possibile Quindi tornando alla domanda Di tube difficile Sì Ne vale la pena Se avete qualcosa da dire Se sentite il bisogno Di raccontare Le vostre storie Di condividere Le vostre competenze Ne vale la pena Sì Comunque Basta Basta il momento sentimentale L'anno scorso Ho fatto un video Pazzesco Tipo troppo sentimentale Con tutte le volte Che dico Ciao amici Io sono Gai E voi siete benvenuti Su The Celleroids Ed è bellissimo Bellissimissimo Quel video Mi pare che adesso È in highlight Sul canale Quest'anno Ovviamente Causa quarantena Non lo farò Però Però Comunque Volevo festeggiare Questi due anni E sto lavorando Alla nuova Brand identity Del canale La nuova sigla Le nuove grafiche Il nuovo logo Insomma Tanta roba nuova Di questo tipo Ovviamente Non potendo fare riprese Non posso ancora Farvi vedere la sigla Che è pronta Ma non l'ho girata Quindi Vabbè ragazzi Arriverà Vi auguro Di iniziare presto Questa O altre avventure E di trarne Le soddisfazioni Piccole soddisfazioni Quotidiane soddisfazioni Direttamente proporzionali E neanche sempre Al vostro impegno Quotidiano O quello che ci mettete Ve lo auguro Con tutto il cuore È stato bello Fare questo video Mi sento liberato Basta video di pancia Il prossimo Facciamo un tutorial Come tappare le bottiglie No 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 Però il prossimo Se volete Facciamo un tutorial Quindi fatemelo Saper nei commenti Grazie per essere stati Con me ragazzi Per questo video E per i due anni Trascorsi Per chi mi segue Dall'inizio Ci vediamo Nella prossima puntata Ci vediamo Sulla strada Chilli No 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 no